Ieri è stata una giornata davvero importante per la democrazia italiana, per la libertà di tutti noi, per la prospettiva per cui possiamo batterci in futuro. La Corte Costituzionale ha cancellato le parti orrende, inaccettabili del porcello, ma ha cancellato il premio di maggioranza e ha consentito, consentirà a tutti gli elettori e le elettrici di scegliersi loro, i loro parlamentari, i loro rappresentanti. Insomma, la Corte Costituzionale ha fatto una dichiarazione di principio, e cioè che con questa Costituzione, la Costituzione che noi dobbiamo difendere con le unghie e con i denti, la Costituzione che ci invidia il mondo perché è la più progressista, la più avanzata su termini dei diritti sociali e delle libertà, con questa Costituzione l'unica legge elettorale costituzionale è la legge proporzionale. La legge proporzionale dove però ci sono anche le preferenze e quindi i cittadini possono scegliere direttamente i propri rappresentanti e i rappresentanti possono avere la legittimazione di sedere nelle istituzioni con il consenso e il voto dei cittadini stessi. Ecco che molti oggi stanno alzando polveroni, piangendo, lamentandosi, minacciando che torneremo a situazioni di instabilità, a situazioni in cui la politica, cose che non hanno senso perché in questi anni di maggioritario e di trucchi elettorali mai si è stata tanta devastazione morale, etica, politica, trasformismo, cambi di casacca. Insomma, il maggioritario è stata una pessima medicina, un veleno e non una medicina che è stato iniettato nelle vene della democrazia italiana. Infatti con il maggioritario Berlusconi ha vinto le elezioni, non ha mai avuto la maggioranza assoluta dei voti degli italiani. Con il maggioritario si è creato una contrapposizione fittizia tra Berlusconi, il suo anticomunismo, e una sinistra anti-berlusconiana che però assomigliava e assomiglia sempre di più al modello che vuole presuntamente contrapporre, a cui vuole contrapporsi e che nei talk show fintamente attacca. Ora noi abbiamo una legge elettorale, la consulta, la corte costituzionale ci dà una legge elettorale, è la legge elettorale proporzionale, è la legge elettorale che consente dentro le liste di scegliere i rappresentanti. A Renzi non piace questa soluzione e ne sappiamo i motivi. Renzi non dice qual è il suo programma perché vuole vincere ancora una volta o contro Berlusconi o contro la vecchia classe dirigente del PD, ma non per il proprio programma, per la propria proposta a questo paese. A Grillo non piace questa legge elettorale perché anche qui dovrà sciogliere dei nodi, dirci se vuole cancellare la bossa i fini, cosa vuole fare sulle questioni sociali, sulle questioni economiche. Lui è per l'euro o contro l'euro? Lo deve dire se vuole presentarsi alle elezioni con una legge elettorale proporzionale. Questa legge fa chiarezza, fa chiarezza e deve essere difesa e chiediamo soprattutto alla sinistra che da sempre formalmente ha detto di difendere questo tipo di impostazione, di difenderla anche in Parlamento. Vendola deve difendere la legge proporzionale in Parlamento e SEL deve smetterla di pensare che il suo futuro è quello di ancillare alla posizione del PD e pensare che è possibile oggi, attraverso un'operazione politica, attraverso la consapevolezza della nuova apertura di uno spazio politico, che la sinistra torni in campo. Ci dovrà essere molta chiarezza, ma con una legge così si può provare a presentarci per quello che si è e quindi a chiarire quali sono le questioni sociali, quali sono le questioni di diritti civili, quali sono le questioni di libertà, quali sono le scelte su pace e guerra. Insomma, andare alle elezioni e farsi votare per quello che si è. La sinistra sarà una minoranza? Sì, probabilmente sarà una minoranza, ma sarà una minoranza che potrà sviluppare la propria azione, costruire consenso, costruire l'insediamento sociale. Ecco perché questa legge elettorale va difesa con la stessa forza con cui difendiamo la Costituzione. Nessuno tocchi la nuova legge elettorale, si va dalle elezioni con quella legge che ha deciso la Corte, ci si presenti per quello che si è e si chiede il consenso. E questo saremo certi quindi che il prossimo governo, quello che sarà, sarà un governo che sarà stato votato dalla maggioranza degli italiani, non con un trucco con i premi di maggioranza, ma perché gli italiani avranno votato quelle forze politiche che poi comporranno il quadro di governo. E i deputati che verranno eletti non saranno stati nominati da 4, 5 o da 1 o 2 capi partito, ma saranno persone che hanno passato il vaglio del consenso e del voto degli italiani e delle italiane. Ecco che così si difendono le istituzioni, dando forza a chi entra nelle istituzioni e dando forza alle istituzioni stesse perché legittimate, perché partecipate, perché rappresentative e quindi capaci anche di scelte. Le istituzioni deboli non fanno scelte, le consegnano ai mercati, alle banche, a chi ha potere vero. Le istituzioni forti sono quelle che rappresentano il popolo e le sue idee e i suoi conflitti e che dentro le istituzioni portano a quei conflitti. Ieri è stata davvero una buona giornata per questo paese. Sapremo cogliere l'occasione che ci è stata data? Io spero di sì, dovremo lavorare perché la sinistra colga questa occasione e sia in grado di ritornare a presentarsi con la propria faccia, con i propri valori, soprattutto gli interessi che essa vuole rappresentare e chiarire che questo paese ha bisogno di un cambiamento vero, ma che il cambiamento viene dalle scelte radicali sui termini sociali e sui termini di libertà.